La campagna Farsi bella non è una colpa, promossa da CNA Benessere e Sanità Firenze, vuole essere un grido di speranza di e per tutte le donne. Troppo spesso la paura di ripercussioni o il senso di impotenza spingono le donne a tacere o a colpevolizzarsi. Anche il più piccolo gesto può fare la differenza. Fai uno scatto con lui. Una verità tanto semplice quanto scomida. Ogni donna deve essere libera di essere semplicemente se stessa. Non lasciare che l'indifferenza venga. Non voltarti dall'altra parte. Farsi bella nel mondo.